Una lite sfociata in tragedia avvenuta nella cittadina di Casazza, in provincia di Bergamo, Mario Romeo, un operaio di 32 anni, originario di Botricello, in provincia di Catanzaro, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere coinvolto nella morte di Mikola Ivasyuk, 37enne, originario dell'Ucraina. L'incidente è avvenuto nella serata del 20 agosto fuori dalla Rosy Bar, un locale noto alle forze dell'ordine per la frequentazione di pregiudicati. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la risa è scoppiata per motivi ancora da chiarire tra Romeo, Ivasyuk e un terzo uomo di origine marocchina. I testimoni hanno raccontato che Romeo, apparentemente amico della vittima, avrebbe colpito l'uomo con un pugno. In seguito, un terzo uomo, che al momento risulta irreperibile, avrebbe sferrato un colpo con un bicchiere alla testa, facendolo crollare sul suolo. Romeo, secondo le testimonianze, era rimasto vicino alla vittima fino all'arrivo dei soccorsi, è stato arrestato dai carabinieri subito dopo l'incidente. Al momento si trova in carcere insieme ad un altro uomo, che avrebbe aiutato il marocchino a fuggire dal luogo del delitto. Le indagini proseguono per cercare di fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla risa e per rintracciare il terzo uomo coinvolto. Romeo era senza precedenti, ma con un cambio di vita. Operaio, infatti, presso una ditta di Telgate, ha vissuto a Milano prima di trasferirsi al Gorlago, dove aveva comprato un appartamento tre anni fa. Dopo un matrimonio e un successivo divorzio, l'uomo sembra aver cambiato vita e stile, iniziando a frequentare molti migranti, tra cui diversi amici ucraini.